L'Aeroeco Nazionale Prima che ho fatto il volo verso Irlanda Mi ha chiamato il mio giocatore e mi ha detto per la possibilità di filmare con Sampdoria Io ho detto subito sì Era tutto improvviso, è successo Io sono un difessore che è cattivo, che non molla mai E che vuole adattare anche altri per fare il meglio la partita Un giocatore che mi ha sempre piaciuto era Nemanja Vidic Ho scelto anche il numero 15 come ce l'aveva lui E uno cattivo, come ho detto già prima, non molla mai E mi piace come giocatore Sergio Cattones è stato un giocatore importante Anche se era un ruolo diverso, ma anche lui non mollava mai Sappiamo cosa ha vinto con la Sampdoria Lui mi ha fatto anche esordire con la Nazionale Slovena un anno fa Il Genoa mi ha fatto esordire in Serie A Ma adesso penso solo a Sampdoria E fare il meglio qua Ho giocato il derby in primavera Ma adesso non vedo l'ora di giocarla in prima squadra A Cesena sono arrivato come ragazzino E mi ha fatto esordire anche con i grandi Ho trovato più continuità E poi siamo andati anche in Serie A Ho giocato due anni a Cesena Poi mi sono trasferito a Cagliari Che era una bellissima esperienza E lì ho conosciuto anche tanti altri ex lucerchiati Destena, Salamon, Storari E mi hanno detto tutte le belle parole Perché poi ho scelto la Sampdoria Sì, io sono venuto qua per dare al massimo Per ripagare la fiducia alla società E convincerla di poter starci qua E saluto anche i miei noi tifosi Forza Sampdoria Forza Sampdoria